Buongiorno, buon sabato mattina, eccoci ancora insieme per leggere i quotidiani regionali in questo appuntamento della rassegna stampa del 4 di luglio. Come sempre siamo alle prime pagine, siamo al giornale dell'Umbria. Terrorismo islamico, ombre su tre residenti a Perugia, microcriminalità e mafia in Umbria, ecco le nuove misure, ieri tre firme e bocci dice arriveranno altre 60 agenti. Trovato morto nel lago Ungiallo, uomo di Guadutadino è rinvenuto cadavere nel bacino di Corbara e ancora da Nocera, GP Industries e Spiragli verso l'accordo tra Banche e Porcarelli. Scuole a Perugia, comitati immense, 3.000 firme contro l'esternalizzazione. Commercio oggi al via i saldi, avanti fino al primo di settembre. Ancora autorizzazione, un blocco insensato, superintendenza paesaggistica, dure accuse di confindustria e ance. A Perugia il terrore delle coppiette era il carcere a rimpatrio in Albania in sole 4 ore. E poi Vertigine Umbra ad Expo 2015, presentata a Milano la grande mostra allestita a Palazzo Baldischi di Perugia. Per il calcio Perugia, la punta di Carmine, primo acquisto dell'era Bisoli. E poi per il Corriere dell'Umbria. Trovato morto al lago, il gualdese Ferdinando Sorbelli, 68 anni, era andato a pescare giallo sulle cause del decesso. E ancora, per quanto riguarda invece la cultura, gli spettacoli, in scena le straordinarie donne delle due mondi. Il palcoscenico del festival si tinge di rosa con star di levatura internazionale, una su tutte, Eleonora abbagnato. Da terni pugno in faccia e candeggina sugli occhi del suo ex. Una donna di 40 anni spedisce il suo vecchio compagno in ospedale, denunciata per lesioni aggravate. Ancora sicurezza, un patto per il territorio e per l'Umbra in generale. Perugia, lite in strada, minaccia una donna con la roncola. A Foligno, Valdichienti, chiarezza sulle gallerie chiuse. Gubbio, multe per chi getta in terra, sigarette e chewing gum. E poi serie B, calcio della Ternana, serie Duna, domenica 12, piace lo Juventino vitale. Per quanto riguarda la nazione, nessun riferimento sulla pagina nazionale. Allora andiamo direttamente alla prima pagina dell'inserto prettamente regionale. Obiettivo sicurezza, estate serena, le forze dell'ordine perugine crescono di ben 50 unità. Firmati tre protocolli per contrastare il crimine. Pescatore muore nel lago di Corbara. L'uomo di Gualdo Tadino si è accasciato sulla riva per un malore. Disposta comunque ovviamente l'autopsia. Litigano per il traffico spunta una roncola a Ponte San Giovanni. Scattano oggi i saldi fino al primo di settembre. Clamorosa svolta, subito chiuse, le due gallerie della Statale 77. E poi Monte d'Oglio, la Diga, via libera a Ripristino. È arrivato il nulla osta per il rifacimento di una porzione della Diga. Dopo l'inondazione del 2010, il Consiglio Superiore dei Lavori pubblici ha esposto infatti parere favorevole al progetto. E lo ha reso noto la Regione Toscana. Per quanto riguarda invece la prima pagina del messaggero dell'Umbria, appalti, giro di vite antimafia. Patto per la sicurezza, controlli sull'opera pubblica anche al di sotto delle soglie per legge e accertamenti sull'edilizia privata. Bocci dice un passo decisivo. Farmacie, verifiche sull'ultimo concorso. E ancora il neossessore Barberini parte dall'ospice, il progetto una sanità vicina ai più deboli. Oggi il via ufficiale ha i saldi e ancora investigatore ad Umbria Mobilità. L'indagine prosegue a Gualdo Cattaneo, un uomo che non può tenere armi, viene controllato nell'armadio, trovato un arsenale. E poi, come sempre, grazie al messaggero dell'Umbria, andiamo a leggere le previsioni del tempo. A tutto sole fino a giovedì, quindi il caldo sarà così alto, almeno fino a giovedì. Poi sono attesi probabili, temporali, utili a sconfiggere la canicola opprimente. Ma sarà solo una tregua temporanea, attenzione, non sperateci. Anche la tendenza della seconda decada di luglio sarà infatti dedicata, segnata dall'anticiclone dominante, quindi dovrebbe fare molto caldo. Intanto per questo weekend, temperature che dovrebbero sferare anche i 38 gradi, quindi ovviamente massima attenzione. Le solite raccomandazioni, bevete tanto, non esponetevi al caldo nelle ore centrali della giornata. Attenzione ai bambini, agli anziani e quant'altro. Allora, andiamo alle pagine regionali. Ricominciamo da il giornale dell'Umbria. Eccoci qua. Sono pericolosi, niente, cittadinanza. Il fanatismo religioso alla Jihad, le ombre della giustizia su tre extracomunitari residenti a Perugia, che chiedevano di diventare italiani. Sono provenienti dall'area del Maghreb e si dice dalla sentenza che dall'attività informativa sono emerse elementi riguardanti la sicurezza della Repubblica. In particolare, un uomo ha manifestato, si legge testualmente il suo orientamento di natura integralista e di risentimento verso questa nazione, mantiene contatti con extracomunitari soggetti ad indagine sull'integralismo islamico. Ancora svolge attivamente attività di proselitismo religioso di natura integralista fra i giovani frequentatori della moschea che frequenta. E allora si parla di mafie e microcriminalità. Istituzioni locali e governo fanno quadrato tre protocolli per elevare i controlli. Ieri firme in prefettura a Perugia, eccola qua la foto. Mentre ve la faccio vedere vi racconto chi sono i soggetti presenti. Ovviamente il sottosegretario all'interno di Giampiero Bocci, il prefetto Antonella De Miro, la presidente Catiuscia Marini, il presidente della provincia Randomismetti e il sindaco di Perugia del capologo Andrea Romizzi. Eccola qua la prima firma ha ragguardato l'accordo tra Ministero dell'Interno e Regione in materia di politica integrata e di sicurezza urbana. Ad esempio si prevede la possibilità che la Regione attivi apposite forme di contribuzione logistica, strumentale o finanziaria, da destinarsi all'attuazione dei programmi previsti dall'accordo, di altre progettualità destinate al rafforzamento delle condizioni di sicurezza dei cittadini, da attuarsi con la collaborazione degli enti locali. La seconda firma, ad esempio, ha riguardato il protocollo di intesa tra la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale tra la prefettura e il comune di Perugia. E poi il sottosegretario Bocci ha detto che arrivano rinforzi, circa 60 uomini, carabinieri, finanziari, allievi della squadra di polizia di Spoleto. Attenzione, saranno sì impiegati nel territorio Umbro, ma a scadenza. Complessivamente 30 carabinieri, 20 uomini della polizia e poi i rinforzi per la guardia di finanza. Il consiglio, il PD si affida a Leonelli, che sarà il capogruppo a Palazzo Cesaroni, parliamo del segretario regionale. La Porzi è in pole per la presidenza invece dell'assise regionale. Fratelli d'Italia, Serra, Iranghi, premiate coerenze e chiarezza, l'Umbria non è più fortino rosso. Ancora, da Perugia, comitati, menze, raccolte 3.000 firme, i genitori dicono un modello virtuoso non sia esternalizzato. La risposta del comune, l'assessore Uagwe, tutti saranno coinvolti, e poi Barberini, sanità vicino a chi soffre ieri all'ospice. Tasse invariate, detrazione con tre figli, la commissione bilancio conferma per la nuova IUC le aliquote Tasi e IMO, gli introiti per ogni servizio, questo ovviamente per il comune di Perugia. Ancora, un IPG punta oriente, accordi con la Cina, gli obiettivi scambi di docenti e studenti. Coinvolti gli atenei di due zone che dovrebbero pronunciarsi, Qingdao e Kong Qing. Si arricchiscono così le relazioni tra l'Università di Perugia con atenei cinesi molto abitati, in zone e città con oltre 9 milioni di abitanti nel nord-est della Cina. E poi a Castiglione del Lago c'è il festival degli spaventapasseri. Per quanto riguarda invece la pagina dell'economia, il blocco delle autorizzazioni è insensato. Soprintendenza paesaggistica, dura presa di posizione di Confindustria e Ance Umbria. I problemi ci sono dall'avvento del nuovo soprintendente. E ancora Ricci, il piano di rilancio economico e il Consiglio regionale si riunisca ad agosto. Programma filiere, mezzo miliardo di credito per le imprese della regione, Cassa di risparmio di Perugia. Qui il punto. E ancora formazione, ITS Umbria, indirizzo meccanico, l'80% dei diplomati in sei mesi trova lavoro. Al via i saldi estivi vendite previste in aumento rispetto allo scorso anno, la pietra lunga, strumenti musicali d'avanguardia, la creatività Umbra al servizio della tecnologia con Longstone Technologies, inaugurazione oggi. Collegi geometri, sì al coordinamento regionale. Lo ha deciso il primo consiglio congiunto nella regione che interessa 2800 professionisti. Per la pagina degli spettacoli per il Festival di Spoleto, Adriana Asti, lo sguardo di Brecht, in scena al Teatro Nuovo. Invece andiamo all'Expo Vertigine Umbra a proda all'evento di Milano 2015, presentata a Milano la mostra voluta dalla Fondazione Cassa di risparmio di Perugia, allestita a Palazzo Baldeschi. Quindi sotto il cappello di Umbra Experience, iniziativa organizzata dalla regione in occasione di Expo 2015 a Milano, presentata la mostra appunto Vertigine Umbra. L'Umbra è vista dall'alto tra realtà e immaginazione, aeropittura, aereofotografia, stampa antica e drone. Questo dunque per le pagine della cultura che ricordano anche come lo Young Jets anima Umbria Jets con i giovani talenti, la kermess di Giovanni Guidi del Folignate. Giovanni Guidi si sposa con il festival guidato da Carlo Pagnotta ed entra al teatro Morlacchi. Questo per il giornale dell'Umbria. Andiamo al Corriere dell'Umbria, anche in questo caso alle pagine regionali. Scatta il piano sicurezza. Ieri la firma di sottosegretario all'interno, regione, provincia, comune, prefettura e forze dell'ordine. Contribuiamo all'intesa, nonostante le incertezze, questo dice Mismetti, presidente della provincia, e poi più cooperazione per la lotta alla mafia. Nel protocollo anche il contrasto alle infiltrazioni dei clan, soprattutto negli appalti. Nel dettaglio, il nuovo protocollo innalza il livello di cooperazione tra la prefettura e il comune di Perugia per prevenire e sconfiggere possibili infiltrazioni criminali nell'economia, con particolare riguardo ai settori degli appalti e contratti pubblici del commercio, dell'urbanistica, dell'edilizia, anche privata. Tradotto in materia di appalti e subcontratti, scattano i controlli e le verifiche previste dalla normativa antimafia, anche al di sotto della soglia di valore previste, sempre dalla normativa. L'assessore Barberini è la sua prima uscita a visita all'ospice, un sistema sanitario attento ai bisogni delle persone, e poi si va a Gubbio. Tavola rotonda nell'ambito del Festival Terra Comunica, oggi alle 15.30, trasferita alla biblioteca comunale per raccontare la sostenibilità dei territori attraverso le esperienze di numerose eccellenze e bei nomi tra gli ospiti, l'architetto Mario Cucinella, il segretario generale di Simbola, la Fondazione per le Qualità Italiane Fabio Renzi, e poi Enzo Curzo, giornalista e attivista nel campo dei diritti umani. Per la politica, Consiglio regionale, porsi Presidente Leonelli Capogruppo, la decisione presa nella riunione dei democratici in vista della prima seduta del Consiglio regionale che è prevista giovedì. E poi la lista incontra la Presidente Marini, iniziativa per l'Umbria, Claudio Ricci intanto dice l'Assemblea Lavori anche ad agosto. Nomina in arrivo per Eros Brega, membro supplente del Comitato per le Regioni. E poi vi ricordo l'appuntamento con la Solidarietà, mercoledì 8 luglio allo Stadio Curie, alle 20.30 c'è appunto la partita del Jets per la Solidarietà. È tutto pronto, 3 le squadre in campo, all-star DJ, nazionali italiani jazzisti e italiani attori. Per essere solidali, con 7 associazioni, 5 euro per dare prova di avere un grande cuore. Eccole qua, Giacomo, ad esempio nella foto a sinistra, Giacomo Stintini e poi Leonardo Cenci con il biglietto. E poi economia, accordo indesit e sindacati, niente esuberi e salvi tutti i siti. L'azienda ha previsto anche più di 500 milioni di investimenti. JP invece, tutt'altra storia, intervenga la politica. Ieri, assemblea dei lavoratori allo stabilimento di Gaifana, di Colle di Nocera, ieri il sindacato ha sollecitato le istituzioni, intanto il 9 luglio, un nuovo incontro al mese. Ora è il momento, dicono i sindacati, che le regioni si attivino in vista dell'auspicato accordo tra proprietà e banche, senza dimenticare l'accordo di programma. E appunto tutte le parti riconvocate il 9. Salgrantino e salute verso Expo 2015, le qualità salutistiche tra lavori e degustazioni nel Golf Club di Perugia. Programma filiere, si migliora l'accesso al credito delle imprese. Oltre mezzo miliardo di il plafon, intervista a Monceri, direttore regionale toscana, Umbria e Lazio Sardegna, di Intesa San Paolo. Trasporti sui treni jazz e anche con biciclette dal 13 di dicembre prossimo, appunto su alcuni treni regionali, si potrà viaggiare con tanto di bicicletta al seguito. E poi Festival dei Due Mondi, siamo ovviamente a Spoleto, Eleonora Bagnato porta a scena al Teatro Romano i pezzi più famosi di colui che lei considera il suo padre artistico, e quindi dice oggi il mio grazie va a Roland Petit. E quindi è ricchissimo il cartellone del Festival di Spoleto. Mega uffici ma solo per i capi, siamo a Perugia, i sindacati sostengono che assessori e dirigenti hanno spazi giganteschi, gli impiegati invece stanze indecorose. Parliamo degli uffici comunali, ovviamente di Perugia. Allora, dopo il Corriere dell'Umbria, andiamo alla Nazione. Pagine nazionali, gallerie inaugurate subito chiusa, eccoci qua, la quadrilatero cd e spiegazioni, ennesima bufera riferita al nuovo tracciato della Statale 77. Riccardo Meloni di Forza Italia chiede che si faccia il più presto luce sulla verità dei fatti. E ancora, benzina per le filiere produttive, intesa San Paolo sostiene la crescita, anche la Cucinelli tra le sei aziende che accedono ai fondi. All'ITIS si festeggiano i diplomi, hanno già un posto 25 studenti. E poi a Pennino, i parchi in vetrina all'Expo di Milano, sarà presente anche l'assessore regionale Cecchini. Per quanto riguarda, eccoci qua, l'inserto invece prettamente regionale, un nuovo esercito contro la criminalità, arrivano 50 uomini in più per combattere spaccio e furti nelle abitazioni. Il sottosegretario Bocci ha detto lavorare insieme per un'idea di sicurezza più larga e partecipata. Marini, responsabilità condivise. Ma in centro c'è l'ennesima rapina, appunto il coltello contro il commesso di Umbro, e fugge con 60 euro. Mismetti dice sono sincero, non volevamo firmare il protocollo. Il presidente confessa alla fine ho prevalso l'interesse per i cittadini. Eravamo perplessi a firmare o meno, ha detto Mismetti. La regione da questo punto di vista è un bambino che deve ancora crescere. Scoppio la lite per una precedenza negata, pensate, con la roncola tenta di aggredire una ragazza. Sfregia per gelosia l'amante trans, è ai domiciliari, e poi droga, maxi udienza con 99 indagati. Ancora, in due assaltano la banca, l'impiegata sviene alla BNL di San Sisto. E poi il processo, l'allenatore Magrini si difende, io non sono uno stalker, è accusato appunto dalla ex amante, ma lui ha detto non si è trattato, non si è trattato di persecuzione, ma della fine movimentata di una relazione extramatrimoniale. E ancora, bollino rosso, il caldo fa paura, Perugia è inserita fra le dieci città ad alto rischio. Domani è previsto il clou da domani, attenzione. E ancora, questo per quanto riguarda la cronaca di Perugia, la Porzi, presidente, Leonelli Capogruppo, questo in consiglio regionale, così l'Emporio Solidale assiste 400 famiglie in dieci mesi distribuite 77 tonnellate di cibo prodotti per l'igiene e materiali scolastici. E poi andremo a leggere anche dei territori, intanto Grifo, una storia d'amore lunga 110 anni dal Santa Giuliana a Santo Padre tra imbattibilità e spareggi il racconto dei protagonisti appunto in questo evento che venne raccontato anche con le immagini, con le fotografie. Allora noi invece andiamo al Messaggero dell'Umbria e anche in questo caso pagine regionali per poi passare a quelle comprensoriali. Super controlli in casa, negozi, sfida fonti vegge. e ancora rapine, colpi in centro e sanzisto dipendente colto da malore. L'itero traffico madre e bimba minacciate con la roncola saldi due negozi su tre sono già ai grandi sconti. Guerra delle menze i genitori sono pronti al ricorso al Tarda Perugia immobile Ina il altro passo per battere il degrado scuola in prota il capitini e la ronchedo al Pieralli i valser dei dirigenti finiranno in regenza Galilei e Itas Bruno la Benedetti al Patrizzi di Castello la Neri al Frezzi di Foligno conferme per Maiolo al Mariotti Stella l'Alessia la Boccuto al Dibetto al Properzio arriva la Alunni farmacie verifiche sull'ultimo concorso contestata la commissione la regione dice è tutto ok Barberini Barberini all'ascolto della gente che soffre il mio assessore alla sanità voluto iniziare dall'Hospice e poi andremo a leggere appunto anche ciò che è legato al locale intanto aspettando Umbria Jazz il Quasar diventa Jazz Village emozioni fino all'ultimo giorno di festival a Spoleto Sala Frau e Pegasus la pellicola si trasforma in evento allora detto ciò noi riavoigiamo il nastro ancora torniamo per la terza volta al giornale dell'Umbria andiamo alle pagine prettamente comprensoriali e siamo a Città di Castello la biblioteca in anteprima da settembre a Palazzo del Podestà in attesa della sede definitiva Umberti regiunta ok il bilancio 2015 senza tasse in più andiamo ad Assisi centrodestra ancora diviso nonostante la vittoria non ha sanato le ferite il buon esito di Riccia alle regionali anche il sindaco a Milano per l'inaugurazione dello spazio serafico a Dexpo nei padiglioni il giardino sensoriale dell'istituto differenziata siamo a Gubbio il comune pigia il gas numeri insoddisfacenti nuovi servizi e campagna di sensibilizzazione appena sfiorata il 50% bisogna raggiungere almeno il 60 domani la città ricorda il sacrificio di Parruccini 71 anni fa stop agli esuberi la storica firma sull'ex indesit mette d'accordo Renzi e Landini e questo per l'occupazione edilizia scolastica tre cantieri in partenza durante il periodo estivo 150.000 euro per Cipolleto Fassia a Ponte d'Assi e la palestra di Via Perugina incontro con la nutrizionista Villarini oggi pomeriggio alle 18 mentre alle 15.30 Terra Comunica porta Mario Cucinella Foligno e Canapè diventino un parco d'eccellenza la proposta di Falasca agenzia delle entrate ecco la nuova sede si trova in Viale Umbria la soddisfazione del sindaco e ancora oggi e domani centro aperto anche di notte con Eat and Shopping density sul filo che lega Laos e Detroit questo è il programma e poi JP Industries si intravede uno spiraglio non c'era Umbra ieri l'assemblea dei lavoratori ci sarebbe un accordo tra banche e porcarelli Montefalco un premio dalle donne per le donne oggi la cerimonia che corona l'iniziativa dell'Ainet ecco i nomi delle insignite poi da Trevi e con questo chiudiamo con il giornale i 5 stelle attaccano usciamo dal corpo unico di polizia locale dell'Unione andiamo invece al Corriere dell'Umbria eccoci qua appena ci ricomponiamo e andiamo anche in questo caso alle pagine comprensoriali Assisi Centro Studi sul Turismo scoppia la polemica sulla vicenda anche l'intervento di Petti Rossi del PD botta e risposta tra Sindaco, Ricci e gli ex dipendenti della struttura autobus in panne traffico in tilte sempre ad Assisi oggi nuovo appuntamento con le cave Music Festival Città di Castello Palazzo del Podestà spazza alla futura biblioteca il gruppo Enel avvise clienti internauti e attenzione alle email truffa Ancora Anziano in prognosi riservata lo può essere andata a sbattere contro un palo dell'illuminazione in 24 ore tre incidenti rilevati dalla municipale sui passi di Orsola Giuliani di Venuta Santa Veronica tra sabato 11 e domenica 12 a piedi a cavallo in bici da Mercatello sul Metauro a Belvedere e poi al convento nessun aumento tarifario ad Umberte le taglie e servizi nonostante la diminuzione di risorse questo dal Consiglio Comunale momenti di poesie di musica domani alle 21 a San Francesco ancora da Umbertide mentre a San Giustino alle 18 a Castello Bufalini Masterclass of Music Gubbio in arrivo molte salate per punire chi getta mozziconi di sigarette chewing gum per terra il sindaco sterate dichiara guerra e poi raccolta differenziata da settembre si cambia e si punta poi ad aumentare il differenziato il fantino Massimo Columbo sospeso dal palio di Siena Leo Gubino ormai di adozione per lui la decisione è arrivata dopo il rapporto dei deputati della festa contegno palesemente scorretto hanno detto commemorazione alcol di lanna si parte con l'associazione Eugubini nel mondo per ricordare i caduti Gualdo Tadino artigiano in fiera a fondi comunali pubblicato il bando va presentato entro il 31 di agosto storia musica e sport a Noceara Umbra ecco il fine settimana e poi Morroni da Gualdo nel coordinamento regionale lo ha nominato l'onorevole Katia Polidori soddisfazione nel club Forza Italia Gualdese aiutiamoli a realizzare un sogno abili speciali con l'aiuto della Croce Rossa vuole portare un gruppo di disabili al mare Fashion Day sfilate in centro dalle 19 alle 22 a Gualdo Foligno chiarezza sulla Val di Chianti custodiva abusivamente in casa armi e munizioni viene arrestato un 45enne disoccupato Al Density la musica è rivelazione questa sera l'esibizione degli Underground Resistance e di Jeff Mills camera mortuaria super affollata i decessi in simultanea di anziani pazienti malati fanno registrare qualche disagio vendo la bici che Mussolini regalò alla Petacci è un anziano imprenditore folignato di proprietario dello storico Cimelio la Bianchi del 36 su ebay a 250 mila euro trevi più di 320 firme per dire no al corpo unico di polizia locale e quindi per il correre dell'Umbria è tutto andiamo al messaggero dell'Umbria anche in questo caso per D'Agubbio in realtà ci spostiamo un po' a Siena dove appunto si è svolto lo storico Palio uno dei due dell'anno veleno secondo un eugubino ha acceso il Palio Massimo Columbo giovedì sera in piazza del campo in sella Porto Alabe 41 anni ha mandato K.O. il fantino della contrada rivale un volo sul tuffo che vale un pezzo di storia ma come l'abbiamo detto anche è stato sospeso da Foligno eccoci qua le strade perdono acqua la scoperta di un cittadino Marco Fagotta ha notato le perdite adesso si è subito attivato Arsenale in casa è stato disoccupato a Gualdo Cattaneo e poi Foligno e Francesco Esposito il trequartista poi andremo a leggere nel dettaglio ciò che è dedicato allo sport ma intanto la notizia la troviamo nella pagina dedicata a Foligno e il messaggero per quanto riguarda la nazione dell'Umbria andiamo alle pagine comprensoriali siamo ad Assisi noi licenziati ancora in attesa di TFR mensilità polemica sul centro studi sul turismo i docenti ricercatori rispondono al sindaco da Bastia Umbra in piazza Mazzini il concerto di Ron dal Via alla Notte Bianca a Gubbio con il porta a porta sulla metà del territorio e l'obiettivo del programma di raccolta rifiuti varato dall'amministrazione comunale e poi celebrazioni nell'Alsazia Tann in onore di Sant'Ubaldo città che ha eretto l'imponente collegiata su una reliquia del patronio gubino artigiani in fiera Gualdo Tadino sostegna chi partecipa intanto sempre a Gualdo scatta la ZTL in centro per tutta l'estate Castello Santa Veronica pellegrini di notte l'evento tra mercatello sul metauro che è nelle marche città di Castello finte bollettene la truffa corre sul web e dispone al ricatto attenzione ancora da Castello in servizio biblioteca Palazzo del Podestà sarà attivo da settembre prestiti e letture nella scursale della comunale trasloco per 40.000 volumi ma il cantiere è fermo Foligno emergenza casa famiglie neguai non hanno quasi 200 sfratti l'allarme del Sunia sempre più folignati senza un tetto sulla testa Gasparini dice situazione preoccupante il fenomeno è aumentato addirittura del 33% un patto tra laboratorio di scienze sperimentali e università siglata alla convenzione quadro finalizzata alla formazione dei giovani alla ricerca a Paltivus con la cooperativa sotto inchiesta i 5 stelle chiedono l'UMI e ancora da Foligno Density Festival entra nel vivo ricco il programma inaugurata la nuova sede dell'agenzia delle entrate col paccio dei falchetti arriva Francesco Esposito anche qua insomma intanto si parla di calcio allora proprio di calcio ma non solo parleremo tra poco grazie alle pagine dedicate allo sport e quindi vi aspetto dopo la pubblicità tra pochissimo non mancate